Tipografia Tirrena. In via Benedetto Gravognolo 36 e in corso Mazzini 87 a Cava dei Tirreni. Tipografia Tirrena. Stampiamo le tue idee. Tre persone di nazionalità rumena sono state fermate e condotte al commissariato di pubblica sicurezza nella frenetica notte tra giovedì e venerdì a Cava dei Tirreni, subito dopo un tentativo di furto in un'abitazione di Santa Maria del Ruovo e dal successivo inseguimento che ha visto protagonisti anche alcuni cittadini. I tre individui, con numerosi precedenti per reati di furto e ricettazione, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e refurtiva, che gli investigatori stanno esaminando al fine di stabilirne la provenienza. Sulla base degli elementi raccolti, tuttavia, i tre sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e dunque rilasciati nel giro di qualche ora. Il provvedimento, in linea con quella che è l'attuale normativa italiana, non conforta i cittadini, che magari sbagliano a preoccuparsi, in quanto le persone di nuovo in libertà potrebbero essere semplicemente ingenui collezionisti di arnesi da scasso, entrati casualmente in possesso di monili ed altri oggetti di valore, che tra l'altro coltivano l'inusuale hobby di imboccare le strade contro senso. Infatti, ricordiamo che nel tentativo di darsi alla fuga, le persone bloccate hanno percorso contro mano a bordo della loro punto di colore grigio via Talamo, impattando anche un segnale stradale. Tuttavia, come si può stare tranquilli a Cava dei Tirreni con i furti in appartamento che oramai scandiscono la quotidianità? Certo, è stata intensificata la presenza delle forze dell'ordine in città, ma forse non è ancora abbastanza per tenere sotto controllo un territorio tanto esteso ed in particolar modo le zone periferiche. Così, talvolta, i cittadini sono costretti a tutelarsi da sé, come è accaduto a Santa Lucia, sempre nella notte tra giovedì e venerdì, quando un uomo esplodendo con il suo fucile legalmente detenuto alcuni colpi ha messo in fuga i malviventi che avevano fatto illecitamente irruzione nella sua abitazione.